Mamma strella. Adesso sta passando per il video, poi facciamo la foto. Un attimo, tutti in foto. Salutate la camera. Ciao ragazzi, sta passando per il video. Così poi vi vedete tutti insieme. Riprendiamo tutti. Grazie, un attimo di pazienza, così abbiamo un bel ricordo tutti. E' vero. Eh? Se lei non si lascute! E' vero! Eh? Questo è meglio! No, no! Vi regalo, ragazzi! Ecco! Che cosa? un po' di più un po' di più un po' di più un po' di più fate lì che dobbiamo fare la foto ma che non ci fanno la foto? ciao da Padova ciao ciao